e bello a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video oggi andrò per la prima volta a reagire un video di alcuni pro player di alcuni streamer nel mio canale oggi andremo a vedere alcune clip di iar buffo se voi non conoscete è uno streamer italiano è uno dei più importanti che l'altro giorno ha vinto 45.000 dollari che in euro sono 27.000 alle fncs se non lo conoscete potete andarlo anche a seguire su twitch che si chiama iar buffo e ora vedremo un po di clip su e che fanno ridere vedremo solo le aspetta ora ve lo dico questo ne arriva non può vedere la potenza dei pod player ma 200 qua praticamente avevo capito e quindi per vincere doveva solo ucciderlo ciao uccidi ho fatto il rocket ride il nemico si è salvato pure si è salvato si è salvato è fuorissimo è fuorissimo è un po' di tardo qua l'hanno stilata qua deve fare solo 200 per uccidere se non muore gg 132 dai 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 let's go bravo buff qua ha messato due colpi fatali che l'hanno fatto comunque raga se volete altri video in cui reagisco a dei pro player a delle clip dei pro player scrivetemelo nei commenti se volete che reagisco ad altri streamer scrivetemelo nei commenti se non vedrò che non mi avete scritto niente domani vi porterò un altro che ho caricato oggi che è su un pro player che vi farò cioè che se lo vedete se andrete a vedere il video riuscirete a saperlo ora non ve lo spoiler comunque continuiamo e inoltre scusate vedremo 10 minuti di questo video perché visto che sono le 50 clip più veste 15 minuti poi dura assai il video quindi vediamo solo 10 è quello che fa un sacco ridere hai vinto un fight contro me e doni perché tu li stai crashando e stai vincando 120 3,2,1 3,2,1 no ma non vanno fare i wager 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 non c'è me cazzo dai 15 anni che devi dire i wager però purtroppo però ora che so che ti vengo sotto non vengo per bene ma mai infatti lui è il primo degli altri due in due non c'è certo perché il padre chi sopporti le gocce allora sopporto sopporto il java allora lo sei o per il mio no allora l'altro giorno l'ho messo un po' perché non mi sopporto e poi l'ho messo il java ma ho sempre che sopporto il java eh però il java lo posso fare mi ho fatto i 4-1-8 sono i 4 i 4-3 che non ho fatto ucciso il primo un altro gli entra con una prepotenza e lo uccide qua si vede la forza del pad e qua rovina la partita infatti qua fa vedere come baffo che è il leone va contro la preda che è il nemico la preda si sta nascondendo la costruzione baffo pian piano si sta avvicinando ed è il piano superiore baffo cerca un impostiglio per nascondere se vuole venire l'aria baffo non ha il suo terreno cerca un posto per salire la preda non sa ancora che baffo è vicino a lui e lo sta per aggredire e per mangiare cosa contro mitro che è uno che gioca contro mongrel cioè non contro con mongrel che è uno americano forte Cristo è mitro Dio Cristo è mitro Dio Cristo è mitro mitro ci sono mitro qua è una clip parolamentature vediamo guardate cosa fa il pad ha ucciso manga motor guardate chi uccide se lo conoscete se non mister savage ti uccido non lo uccidere ti prego no no lo uccidio no no però sarà bene con l'idea già fei ancora ma baffo è bravo non è come te credo non ha mangi il trimer poverini io faccio quella voce inizia quella voce lascia in pace non ti permetterò mai più dai qua praticamente vi dico praticamente sta questo qua che sta camminando vabbè sta in squad con airbuff e canta questa canzone che è è proprio po' stupida come canzone quello fa un 158 un nemico in te però non è baffo un suo amico qua c'è uno che si è nascosto dietro una pietra oddio 3 hs allora vi spiego praticamente qua avete presente quando vi apre cioè che quando spingete quadrato premuto da vi fa uscire dall'elicottero solo che baffo voleva trollare un suo amico voleva trollare un suo amico dicendovi che se spingete cioè se premete il tuo pulsante cioè il quadrato sparava razzi solo che lui per farglielo vedere l'ha fatto ed è morto e quindi vabbè perché perché è morto perché è morto perché è morto e comunque come vi ho detto il buff è di più uno streamer che uno youtuber, perchè lui ce l'ha, ce l'ha il canale di youtube, aspettate, qua uccidono Benjifici e Mr.Savage aspettate prima che finisca il video perchè questo è l'ultima clip che vi faccio vedere vi stavo dicendo se volete anche la continua scrivetemelo nei commenti e come stavo dicendo lui ha un canale di youtube solo che essendo pure famoso le persone si iscrivono al suo canale infatti ha qualche montaggio tipo a 5 video forse e infatti perchè lui si concentra di più come streamer e quindi strema su Twitch e se volete potete andarlo a seguire vediamo qua buff contro Izzy nella cash cup e l'ultima clip qua non ha fiumazza e purtroppo perde 3HS con l'aug oro quindi con questa clip concludiamo qui voi mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate like e scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto questa questa reazione e se ne volete se volete la seconda parte domani uscirà un'altra di un altro pro player o streamer che non vi spoilerò bella bella